Il mondo cambia, e in fretta. Ogni giorno nascono nuove aziende. Le tendenze cambiano in pochi minuti. I clienti richiedono prodotti e servizi ogni secondo e mezzo. Il nostro mondo è automatizzato, immediato, in continuo mutamento e online. Se la tua azienda non rispecchia questo modello, è ora di premere sull'acceleratore. Ma come? Facendo decollare la tua attività e la gestione della tua attività, con la cloud. Ma cos'è la cloud? Forse hai già incontrato altre volte il termine cloud, tecnologia cloud, cloud storage e così via. Oggi un po' tutto è cloud, in poche parole, si tratta di una nuova tecnologia che permette di gestire molte attività aziendali online. Ma se come tanti altri uomini d'affari sei ancora impelagato nell'archiviazione e nel reperimento di documenti cartacei, nella programmazione degli incontri con i fornitori, nella gestione di tanti progetti e nel passaggio dei documenti avanti e indietro con i colleghi, è difficile comprendere esattamente che cosa abbia a che fare il cloud computing con le esigenze aziendali del mondo reale. La risposta è tutto. La cloud infatti alleggerisce il carico di lavoro e si adatta a qualunque esigenza. Puoi utilizzarla come schedario virtuale per semplificare l'archiviazione e l'organizzazione di tutti i documenti dell'azienda. Puoi utilizzarla per connetterti immediatamente con i colleghi in ogni parte del mondo. Puoi utilizzarla anche come uno spazio di lavoro virtuale per semplificare la collaborazione. E poiché la cloud ti segue ovunque e in qualsiasi momento, anche quello che è archiviato con il cloud computing è sempre a tua disposizione. Sono finiti i tempi in cui temevi di non avere tutto sempre a portata di mano. Tutto ciò che viene gestito con la cloud è sempre a disposizione. Allora, che cos'è la cloud? È la tua azienda sempre al passo con i cambiamenti. Sei pronto a far decollare la tua attività? Con Google Apps for Business è facile. Google Apps è la suite di applicazioni che porta la tua azienda nella cloud. Comprende Gmail for Business, Google Calendar, Google Documenti, e Google Sites, ovvero tutti gli strumenti che consentono di Ottimizzare la pianificazione di progetti e meeting, caricare, organizzare e condividere file in tutta semplicità. Accedere ai documenti aziendali importanti da casa, dall'ufficio o da un dispositivo mobile. Comunicare con clienti e dipendenti in modo più efficiente. Collaborare con partner, fornitori, e altri ancora. Con Gmail for Business accedi sempre ed ovunque alle funzionalità di posta elettronica professionale, di messaggistica immediata, di videochiamate e di chat. Puoi anche creare indirizzi email personalizzati con il nome o l'indirizzo web della tua azienda. E sei sempre aggiornato perché puoi sincronizzare i messaggi e accedervi da uno smartphone, persino durante gli spostamenti. Google Calendar razionalizza la pianificazione dei meeting con i membri del team perché elimina le difficoltà di sincronizzazione che solitamente si presentano quando è necessario incontrarsi con i colleghi. Puoi creare più calendari per ciascun progetto e condividere il tuo con colleghi e collaboratori, nonché verificare il loro. Puoi anche spedire via email gli inviti direttamente dal tuo calendario, per riunire il team e organizzare il meeting perfetto in pochi istanti. E quando non è possibile incontrarsi ma è indispensabile collaborare, Google Documenti ti permette di operare con il tuo team su documenti di testo, fogli elettronici e persino presentazioni. È facile archiviare e condividere online i file a cui poi è possibile accedere da qualsiasi dispositivo abilitato per il web come il computer o il cellulare. Google Documenti ti permette di aggiungere note ai documenti pubblicati dai colleghi del team o di modificarli. L'applicazione salva automaticamente la nuova versione e tiene traccia di quelle precedenti per maggiore comodità di consultazione. E grazie alla funzione di collaborazione di Google Documenti, più utenti possono operare sullo stesso documento in tempo reale. Google Sites è la soluzione centralizzata per archiviare tutti i documenti, i fogli elettronici, le presentazioni e i video di un progetto. Ti consente di creare un luogo sicuro grazie a cui tutti gli addetti al progetto, come dipendenti, clienti, partner o fornitori, possono essere sempre al corrente delle ultime novità e condividerle senza dover inviare e leggere decine di triad di posta o effettuare ricerche di file. Visto? La cloud è uno strumento estremamente versatile, adattabile alle esigenze delle singole aziende, grazie ai tanti componenti di Google Apps. Non vedi l'ora di avvalerti della cloud con Google Apps? Allora visita la pagina google.it.it e inizia subito la prova gratuita di 30 giorni. Se gli eccezionali vantaggi aziendali offerti da Google Apps ti avranno conquistato, al termine della prova gratuita potrai continuare a usufruire di questo servizio a un costo mensile per utente estremamente contenuto. Il mondo in cui viviamo è automatizzato, immediato, in continuo mutamente online, e quando sarai passato alla cloud la tua azienda avrà le stesse caratteristiche. Tutto questo grazie a Google Apps. Fai subito la cosa giusta e visita google.it.it. Grazie a tutti.